eccolo qua il mio amico daniele al volante del suo mezzo potentissimo un a1 55 fire 1.3 110 cavalli questo è il filmato come sembra la fiorella maniera ciao fiore che sto facendo a quest'ora ci vedi su youtube ogni tanto mi auguro che prenderai uno dei miei video lo metterai nella tua bacheca ti faccio rivedere daniele così lo metti di sicuro eccolo qua il signor daniele lutazzi ha ribattezzato la tele radio cinghiale stereo network grande collaboratore compagno di tante avventure oggi mi ha detto che senza lavoro tra l'altro siamo pure in mezzo a una strada meglio di così non possiamo stare senza lavoro in mezzo a una strada ci stiamo recando in località va dalla sala ecco qui notate la grande professionalità del nostro daniele guidare in queste che si chiamano strade ma sembrano dei delle pietraie delle strade fatte per ciucci come una volta stiamo avvicinando nel suo nella sua abitazione eccoci qua notate bene il saltellamento della macchina per le nostre della gioia della nostra schiena eccoci qua e e e e e e e e